om shanti il potere dei buoni auguri come gli scienziati fanno crescere cose nella sabbia allo stesso modo date vita a sentimenti nobili nell'aridità delle relazioni umane nel silenzio eliminate i pensieri sprecati che vi fanno avere tante domande perché ce l'ha con me perché è così scorretto come si permette siate misericordiosi e con il potere di una mente silenziosa e di un cuore pulito elevate coloro che vi diffamano e così trasformerete l'atmosfera elevate coloro che vi diffamano con i vostri migliori auguri allora chiunque vi venga davanti sarà per voi motivo di crescita e di risoluzione karmica non aggiungete maglie alla catena del karma ma scioglietene una dopo l'altra i buoni auguri nascono da una mente consapevole e da un cuore che torna a vivere per amore om shanti